Buon pomeriggio e ben trovati sulle fonti tv per una nuova puntata di new insurance realizzata in collaborazione con IMBEST, agenzia di rating specializzata nella valutazione del merito creditizio. Oggi parleremo in particolar modo di futuro del mercato assicurativo italiano. Lo facciamo in un momento particolare per l'economia. Come sappiamo il 2022 è un anno di incertezze da un punto di vista economico ma è anche un anno di grandi opportunità. Basti citare una su tutti il PNRR. Non possiamo prescindere da questo e soprattutto per analizzare le opportunità che ci offrono e ci vengono offerte dal PNRR non possiamo prescindere da quelli che sono gli andamenti nel mercato assicurativo italiano. Un mercato in grandissima trasformazione. Oggi proveremo a capire innanzitutto lo stato attuale e poi butteremo anche un occhio a quelli che sono gli obiettivi, le strategie in un'ottica futura. Non lo farò da sola, do il benvenuto ai miei ospiti che sono in collegamento. Benvenuto Riccardo Ciccozzi, Director Market Development Europe di IMBEST. Benvenuto. Piacere. Benvenuto sempre per IMBEST a José Antonio Beringer, Financial Analyst. Benvenuto Beringer. C'era, buongiorno. Abbiamo anche Riccardo Raucci, Vice Direttore Generale Vita e Direttore Commerciale Territorio Business di Nobis Assicurazioni. Benvenuto Raucci. Buongiorno a tutti, grazie. E Jacopo Tanaglia, CFO di Revo. Benvenuto Tanaglia. A te, buongiorno a tutti. Bene, cominciamo immediatamente il dibattito sullo stato dell'arte, come ci siamo detti. Facciamo un punto su quello che è il mercato assicurativo italiano. Partirei da Berenguer, che ha sicuramente un punto di vista privilegiato come agenzia di rating del settore. Berenguer, quali evoluzioni quindi state analizzando in questo momento? Sì, prima di parlare dell'evoluzione, secondo me dobbiamo parlare un secondo del cambiamento nel panorama dei rischi. Come sappiamo ci sono una serie di rischi globali che stanno colpendo tutte le economie e che ovviamente stanno colpendo anche l'Italia. Tra questi possiamo dire che alcuni dei più relevanti sono l'evoluzione della pandemia. In passato abbiamo visto restrizioni dal governo e adesso siamo in un momento dove sembra che tutto vada meglio, ma stiamo vedendo anche questo rischio materializzare in Cina, il rischio di nuove varianti. Quindi non possiamo dire che la pandemia sia finita. Poi c'è chiaramente l'inflazione, l'impatto che questa ha nell'economia. Abbiamo visto soprattutto un aumento dei costi energetici e abbiamo visto pressione anche sulle catene di approvvigionamento globale. Poi abbiamo visto anche la instabilità geopolitica, abbiamo visto questa guerra, stiamo vedendo questa guerra tra la Russia e l'Ucrania, che ha anche un ulteriore impatto sulla pressione sulle catene di approvvigionamento e quindi anche un impatto sull'inflazione. E poi a tutto questo aggiungiamo il contesto di bassi tassi di interesse che abbiamo avuto negli ultimi anni, ma che sta cambiando leggeramente, sta cominciando a cambiare. Abbiamo visto come la Fed ha cominciato a far salire i tipi di interesse negli Stati Uniti e pensiamo che anche la Banca Centrale Europea può seguire questa tendenza a un certo punto questo anno o l'anno prossimo. E quindi tutto questo sta anche avendo un impatto sui mercati finanziari, aumentando la volatilità e abbiamo visto già impatti sul mercato azionario. Quindi, avendo tutti questi rischi in mente, noi da INVEST prevediamo che nel 2022 questo difficile contesto economico rimarrà un fattore molto sfavorevole per gli assicuratori italiani, sia nel ramo vita che nel ramo danni. E per questo motivo abbiamo dato un outlook negativo a questi due mercati in Italia. Per fare un piccolo commento per ogni ramo, per quanto riguarda il ramo danni, nel 2022 ci aspettiamo una crescita ridotta dei premi, che sarà strettamente legata a come evolgono le condizioni economiche del Paese e ci aspettiamo una maggiore crescita nel non auto e una crescita molto ridotta per quanto riguarda l'auto. Per quanto riguarda la redditività, ci aspettiamo un callo dato soprattutto dell'auto e abbiamo visto in passato i risultati molto buoni, particolarmente buoni nel 2020 e come sono peggiorati leggeramente nel 2021 per la crescente frequenza dei sinistri e la concorrenza tarifaria. E quindi nel 2022 prevediamo che la frequenza sinistri continuerà ad aumentare, anche se è difficile prevedere se tornerà ai livelli pre-pandemia, poiché alcune abitudini, come per esempio può essere lo smart working, hanno avuto un impatto molto significativo sul traffico e quindi sulle frequenze. E questo aumento della frequenza che prevediamo, sommato all'effetto dell'inflazione, dovrebbe aumentare il costo dei sinistri per gli assicuratori. E quindi per il 2022 aspettiamo un calo nella redditività, ma la pressione negativa sui tassi dovrebbe diminuire, poiché gli assicuratori dovranno avere una strategia di sottoscrizione in modo di far fronte a questa salita di frequenza e a questa inflazione. Per quanto riguarda il Vita, anche un piccolo commento. Nel 2022 prevediamo una crescita anche ridotta dei premi. I volume di premi del segmento Vita italiano sono stati volatili storicamente e quindi con questo elevato livello di incertezza economica potrebbe avere un impatto sulla fiducia dei consumatori. E quindi anche per quanto riguarda la redditività nel Vita, noi consideriamo che il margine attuale tra il rendimento dell'investimento e i tassi garantiti nei prodotti di Vita sia ancora sufficiente per gli assicuratori. E consideriamo anche positivo lo sforzo degli assicuratori e degli operatori del mercato a diversificare il loro portfoglio di sottoscrizione transitando da contratti di risparmio a tasso fisso a quelli a basso contenuto di capitale, quello che in inglese si conosce come capital light. E quindi pensiamo che anche questi prodotti di basso tasso di capitale rimarranno la principale ponte di crescita nel 2022, proseguendo con la tendenza che abbiamo visto negli ultimi due anni. Allora, Berenguer si è concentrato sui rischi, delineando alcuni dei nuovi rischi. Rivolgerei la stessa domanda anche a Raucci e Tanaglia, ovviamente dal punto di vista delle imprese. Quindi chiedo voi, quale panorama dei rischi ritenete che si stia delineando e in questo scenario chiaramente che tipo di oscillazioni anche sul volume dei premi? Partiamo da Tanaglia. Sì, grazie. Allora, diciamo che innanzitutto probabilmente bisogna un attimino contestualizzare in funzione di quello che è il target di riferimento di ciascuna compagnia. Noi in particolare come Elba ci concentriamo nell'offerta dei nostri prodotti verso le piccole e medie imprese. Le piccole e medie imprese tipicamente sono sottoassicurate nel nostro paese. Circa il 60% delle aziende italiane non sono adeguatamente coperte e la copertura media delle società che operano nel nostro paese è circa la metà se non addirittura in alcuni casi un terzo rispetto ad altri paesi europei. Quindi diciamo partiamo dalla situazione in cui la sottoassicurazione è un elemento ed un dato di fatto. Rappresenta chiaramente anche un'opportunità di crescita eventualmente per i volumi del comparto e del segmento di riferimento. e diciamo che la situazione che è stata descritta in precedenza rappresenta in realtà un'opportunità per vedere un cambio di rotta da parte delle piccole e medie imprese perché la percezione del rischio sta cambiando in modo consistente. Quindi sempre più le piccole e medie imprese non sono più disponibili a sostenere ulteriori perdite oltre quelle sostenute a causa della crisi e della pandemia e certamente si ha una maggiore percezione di vulnerabilità anche in funzione di quello che è l'andamento dei mercati finanziari noi tutti stiamo vedendo insomma come la volatilità sia tornata molto elevata nel corso degli ultimi mesi e nel corso delle ultime settimane. Quindi c'è una propensione all'acquisto di prodotti assicurativi che sta aumentando viene richiesta allo stesso tempo una maggiore flessibilità agli operatori e gli operatori devono essere molto attenti nell'andare a cogliere o meglio a rispondere a questa esigenza che viene espressa da parte dei clienti finali e chiaramente il prezzo poi delle coperture assicurative viene influenzato da quello che è il contesto macroeconomico di riferimento chiaramente questo prezzo può oscillare ma il cliente finale ha anche una maggiore disposizione all'acquisto di prodotti più costosi se effettivamente ben calibrati in funzione delle sue effettive necessità diciamo che in questo ambito noi vediamo delle ottime opportunità per coperture che sono destinate appunto alla piccola e media impresa che spaziano soprattutto su quelli che sono i filoni che accompagnano un po' la trasformazione anche del modo di agire e di operare delle imprese a valle di quello che è stato il contesto pandemico quindi Poliz è destinata ad esempio alle coperture per i dipendenti in ambito smart working piuttosto che molta sensibilità sulle tematiche di business interruption quindi la piccola e media impresa che già ha subito delle perdite a causa delle interruzioni del proprio business a seguito della pandemia attualmente si trova in una situazione in cui vuole combattere a tutti i costi questo rischio le tematiche della cyber security sicuramente sono un elemento importante che troverà crescita anche in termini di volumi nel corso dei prossimi anni perché il mondo è sempre più connesso sono sempre più gli operatori che operano tramite il web ma anche sempre più gli operatori che dialogano tra di loro tramite sistemi informatici e questo chiaramente sottointende un rischio legato a possibili attacchi cyber e quindi questa è una tematica che sicuramente dovrà essere molto attenzionata e presidiata da parte delle compagnie assicurative e dopo certamente c'è spazio per avviare delle soluzioni molto interessanti in ambito credit risk per fare degli esempi ma anche più semplicemente coperture più tradizionali legate al mondo del property quindi la nostra situazione in particolare è una situazione un po' anomala se vogliamo all'interno del mercato assicurativo in quanto noi stiamo partendo fondamentalmente da un oggetto che è appunto elba assicurazioni che è concentrata nel mondo delle cauzioni il mondo delle cauzioni in particolare del fare e di conseguenza diciamo che l'effetto dei sinistri che anche prima veniva citato può essere gestito con una buona elasticità anche dal punto di vista del prezzo i nostri prodotti sono di breve durata e quindi abbiamo comunque un margine di flessibilità nell'andare ad aggiustare le nostre tariffe e per quanto riguarda invece i volumi partendo per l'appunto da un portafoglio che è in costruzione noi riteniamo che attraverso i nostri servizi ci possa essere spazio per un'interiore crescita di quelli che sono i volumi non solo nell'anno in corso ma anche negli anni a venire perché il mercato comunque è un mercato che ha spazio di miglioramento attualmente viene valutato circa un miliardo e mezzo l'ambito delle piccole e medie imprese nelle coperture specialty che noi presidiamo nel contesto domestico e sicuramente a nostro modo di vedere anche per la citata in precedenza sotto assicurazione ci saranno spazi di miglioramento e quindi di ulteriore crescita dei volumi negli anni a venire Benissimo Rauci stessa domanda per lei quali rischi quindi e quali oscillazioni sul volume dei premi prevedete? Sì io comincerò noi siamo un'azienda molto molto piccola ci consideriamo una start up nel vita quindi il settore vita investimenti ci vede proprio come compagnia che negli ultimi due anni è partita con l'attività con dei tassi di crescita chiaramente del 100% all'anno perché i volumi sono contenuti ma vediamo forte potenzialità nel mondo d'anni siamo invece una compagnia da 300 milioni di premi che ha come target un target molto eterogeneo quindi è una parte di mercato un po' un po' strana cito giusto per poi capire anche i miei interventi successivi la compagnia tra i macro aree di business quella che seguo io direttamente che è la distribuzione più generalista tramite agenti e broker e banche poi c'è il mondo automotive che opera tramite concessionari di autovetture finanziarie e quello che è il core business di una delle compagnie che fanno parte oggi che hanno costituito Nobis nel tempo che è il mondo viaggi malattia della vecchia diciamo filo diretto che era un notam soprattutto nel mondo del tour operator delle agenzie di viaggio ecco facendo questo screening che potete immaginare come sono mondi mondi strani mentre uno può risentire di alcuni andamenti dell'economia l'altro invece può godere di questi andamenti l'automotive non la seguo io c'è un direttore specialista sulla materia cresce molto ma cresce in funzione del numero di veicoli che vengono collocati e noi in questo momento devo dire stiamo stiamo crescendo il mondo che ha risentito di più di quello che è successo negli ultimi anni perché comunque non abbiamo fatto in tempo ad uscire da un contesto economico compresso e depresso dalla pandemia che siamo cascati in quello depresso dalla crisi energetica e indipendenza delle agitazioni internazionali quindi diciamo il mondo del turismo alti e bassi però fortunatamente in questo settore vediamo molta voglia delle persone di ricominciare a viaggiare proprio perché fa parte della legge del contrabbasso mi tenete chiuso poi emotivamente io voglio crescere ancora il terzo settore quello più generalista quello di agenti e broker è forse quello che riflette un po' di più il mercato retail a cui ci rivolgiamo cioè le piccole e medie imprese e le famiglie e qui strengo un po' sulla mia visione del mercato il collega prima diceva una cosa molto corretta c'è molta voglia molto bisogno molto potenziale nelle famiglie nelle imprese di coprirsi però dall'altra parte abbiamo proprio in virtù degli ultimi due anni che hanno inciso sull'attività economica c'è anche una necessità di ridurre ridurre i costi quindi tutto ciò che viene vissuto come una commodity un obbligo faccio riferimento esplicitamente all'RC auto avrà un futuro di compressione dei costi e tentativo di ridurre l'incidenza di queste voci nelle famiglie mentre tutte le altre voci vedo che hanno un notevole interesse da parte delle famiglie dei consumatori noi lavoriamo ancora poco con le piccole e medie imprese però stiamo declinando nuove linee di prodotto proprio per loro perché le accomuniamo molto alla vita familiare le piccole e medie imprese che intendiamo noi sono proprio quelle artigiane e con pochi dipendenti quindi molta voglia di coprirsi proprio perché di fronte alla crisi di fronte alle situazioni di crisi si vuole evitare anche il problema peggiore è paradossale però in ogni fase di mercato c'è una fetta di clienti che giudica interessante il migliorare la propria protezione assicurativa quando le cose vanno bene c'è più un margine economico per fare i progetti fatti bene quando le cose vanno un po' meno bene c'è maggiore attenzione a proteggere quelli che sono i profili gli aspetti della propria attività che possono comprometterne del tutto poi la l'esecuzione e lo stesso vale per le famiglie abbiamo visto come la malattia può arrivare totalmente inaspettata e colpire tutto il mondo quindi secondo me ci sarà una crescita nella parte protezione persone protezione famiglie lavoratori mondo del risparmio quindi impieghi nel mondo vita sicuramente perché i capitali ci sono c'è una grossa giacenza di liquidità sui mercati quindi gli operatori che sapranno canalizzarla potranno crescere così come voglia di accumulo per una protezione futura che sono ambiti in cui noi siamo attivi appunto stiamo registrando tassi di crescita notevoli contrazione dei prezzi sulle coperture obbligatorie benissimo lei parlava di delineava con il suo discorso esigenze diverse che chiaramente poi vengono vestite da prodotti assicurativi diversi quindi rimarrei sempre su di lei proprio per capire un po' dal suo punto di vista come evolverà l'offerta dei servizi dei prodotti assicurativi in base proprio a queste nuove esigenze dei clienti per esempio mi aggancio proprio al tema della della protezione contro le malattie e le spese mediche in generale noi per anni abbiamo visto l'interesse dei clienti verso coperture a 360 gradi ma non abbiamo mai visto quella voglia ovvere davvero a coprirsi nel senso che poi il desiderio c'è ma la copertura bella e completa si scontra purtroppo con un livello di costo adeguato perché non è possibile avere coperture complete ad un costo ridotto durante la pandemia abbiamo visto come se si riescono a smontare le coperture che normalmente abbiamo offerto al mercato si creano nuovi mercati di riferimento faccio un esempio banale abbiamo lanciato durante il covid una protezione covid quindi una poesia rimborso spese mediche di area di ricordo solo per il rischio di covid e ne è stata venduta proporzionalmente una quantità notevole rispetto alle coperture a 360 gradi ad ombrello che abbiamo sempre avuto a catalogo così come parallelamente nelle aziende si arriva ad offrire ai propri dipendenti ai collaboratori in occasione dei contratti di lavoro o anche semplicemente interventi del dottore di lavoro unilaterali coperture che vanno a garantire alcune alcune fette di garanzia per esempio solo le grandi invalidità solo i grandi rischi e alcuni rischi specifici dal mio punto di vista questa potrebbe essere una strada di evoluzione cioè non più prodotti a 360 gradi ma anche evoluzione verso specifiche nicchie che concilino le esigenze di costo-beneficio di costo-beneficio e la volontà da parte del cliente di avere delle coperture che siano effettivamente calibrate su quello che è il bisogno quindi il bisogno in realtà lo si identifica attraverso quelli che possono essere due macrofiloni il primo è una diagnosi del cliente delle caratteristiche del cliente e questo chiaramente lo si può fare qualora vi siano dei dati a disposizione delle informazioni ampie sulle caratteristiche del cliente e allo stesso tempo uno sforzo richiesto anche da parte degli intermediari perché gli intermediari comunque devono essere quei soggetti che poi consentono alla compagnia assicurativa di andare a identificare esattamente quali sono le esigenze del cliente del singolo cliente o del mercato più in generale e andare a stimolare la compagnia nella strutturazione di prodotti che devono essere quanto più modulari possibile diciamo che questo è proprio l'elemento chiave dal nostro punto di vista ossia l'offerta di prodotti che siano guidati dai dati quindi noi siamo consapevoli che ogni piccola media impresa ogni azienda sia unica e quindi le caratteristiche del cliente vanno poi rispecchiate in quella che è l'esigenza di copertura assicurativa ed è per questo che la nostra volontà è stata quella fin da ora di andare ad investire anche su tecnologie informazioni in modo da essere flessibili e essere in grado di andare a declinare la nostra offerta in modo estremamente modulare perché questo chiaramente è un elemento di vantaggio che può anche e certamente farà del bene al mercato che riuscirà così a offrire un maggiore valore aggiunto al cliente finale la velocità delle risposte l'abbiamo citata quindi anche i tempi di quotazione devono essere molto rapidi ormai ci siamo abituati ad un mondo in cui gli acquisti online vengono effettuati in tempi estremamente stretti e anche le assicurazioni si dovranno man mano adeguare a questi ritmi quindi anche il tema della quotazione personalizzata deve essere adeguata e resa molto più rapida rispetto al passato e noi riteniamo che questi elementi possano comunque essere utilizzati nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta vi sono poi dei nuovi prodotti che stanno comparendo sul mercato noi come Revo abbiamo intenzione anche di sviluppare un nuovo filone di prodotti che sono i prodotti parametrici che vanno da un lato a semplificare in modo deciso le condizioni contrattuali e dall'altro anche a velocizzare in modo estremo quelli che sono i tempi di liquidazione del sinistro perché tutto fondamentalmente viene gestito in modo automatizzato da parte del sistema anche con il supporto di tecnologie evolute come la blockchain quindi stiamo vedendo come diciamo tutti questi elementi debbano essere tenuti in considerazione in stretta considerazione da parte dell'industria le compagnie devono chiaramente farsi trovare molto reattive per rispondere alle esigenze del cliente finale ecco per farsi trovare reattive rispetto a queste esigenze lei ha già citato gli investimenti che state facendo in tecnologia più in generale quali altri investimenti ritiene strategici e prioritari per le compagnie assicurative sì allora diciamo che dal nostro punto di vista la tecnologia è un po' il cuore è l'abilitatore fondamentalmente di questo concetto di assicurazione modulare è calibrata su quelle che sono le esigenze del cliente finale perché senza tecnologia risulta di fatto essere particolarmente complicato poi andare ad offrire dei prodotti che siano effettivamente consistenti rispetto al bisogno del cliente quindi le piattaforme che stanno nascendo rappresentano ad esempio delle opportunità delle nuove opportunità distributive e quindi la tecnologia è anche un abilitatore se vogliamo dal punto di vista distributivo perché chiaramente la compagnia deve essere in grado non solo di strutturare dei prodotti che siano quanto più flessibili possibili ma anche essere pronta ad aprirsi da un punto di vista distributivo a quelle che sono le nuove piattaforme digitali giusto per fare degli esempi gli intermediari digitali e di conseguenza questo presuppone la possibilità di avere un sistema centralizzato molto digitale e molto innovativo quindi la flessibilità il tema del dato è centrale nella nostra iniziativa noi abbiamo posto estrema attenzione alla pulizia del dato e all'utilizzo del dato anche per tematiche di quotazione del pricing e quindi questi investimenti a nostro punto di vista a lungo termine saranno quegli elementi che consentiranno da un lato alla compagnia di essere più rapida nella risposta al cliente e dal lato di essere anche più profittevole perché consentirà di avere dei pricing sempre più evoluti sempre più calibrati sugli effettivi rischi e di conseguenza questo si tradurrà in una maggiore profittabilità per la compagnia chiaramente tutto deve essere contestualizzato in una semplificazione molto forte dei processi e questo certamente è anche un investimento se vogliamo che le imprese assicurative dal nostro punto di vista dovrebbero fare nel corso dei prossimi anni Rauci dal suo punto di vista invece quali gli investimenti strategici nel breve e lungo periodo beh devo dire che il collega ha sfondato una porta aperta la tecnologia ormai è nevralgica per rendere competitiva e fruibile competitiva dal punto di vista dell'azienda e fruibile da parte del consumatore quindi sicuramente la prima voce che incide nei nostri nella voce investimenti è l'informatica con tutto quello che è il bisogno di interfacciarsi in tutte le direzioni quindi offrire nuovi servizi ai clienti per stipulare accedere ai servizi della compagnia ma poi anche nella fase del bisogno se pensiamo al contact center in genere ormai ha diverse sfaccettature quindi dalla app dal call center dalla nostra centrale operativa però tutto funziona se gira con la tecnologia adeguata che evolve a una velocità incredibile io pensavo di essere uno moderno dentro ma certe volte mi accorgo che l'evoluzione tecnologica va oltre a quelli che sono i pensieri quindi la voce più interessante sicuramente è quella tecnologica su un fattore io credo molto che generalmente noi sintetizziamo informazione delle reti dei distributori in realtà è semplicemente un tema di informazione perché gli operatori sono tanti le idee sono tante ma devono essere canalizzate nel modo giusto per cui un'altra voce che risente dei nostri investimenti è quella della formazione e assistenza alle reti e ai consulenti che poi dovranno andare dai clienti noi dobbiamo fare in modo di tradurre già il linguaggio del cliente finale per i nostri intermediari le nostre idee di copertura le nostre idee di approccio ai rischi quindi queste due macro aree poi chiaramente c'è tutta la sfera delle risorse umane che però diciamo non è l'ambito in cui discutiamo che non va sottovalutata perché le aziende funzionano se le persone hanno a loro volta l'adeguata formazione l'adeguata efficienza e strutture operative che li rendano in grado di lavorare serenamente mi trovo assolutamente d'accordo capitale tecnologico ma in primis capitale umano su questo tema degli investimenti strategici per migliorare il comparto chiamerei in causa anche il dottor Ciccozzi che lavora in un'azienda che va a braccetto con le assicurazioni e conosce il sistema da vicino dottor Ciccozzi secondo lei? secondo me cercherò visto che è stato detto ormai tutto quello che era importante dire tipo la tecnologia l'investimento nel capitale umano si è toccato anche molto sull'elasticità eccetera guarderò questa domanda dal punto di vista degli investimenti finanziari e delle possibili opportunità di emergency acquisitions perché anche queste sono in effetti investimenti assolutamente strategici per le compagnie però devo fare una breve premessa che questo è un modo comprensibile di metterlo dal mio punto di vista però è difficilissimo poi dare in effetti una risposta che non sia indiretta e generale dal momento che poi alla definitiva come agenzia di rating non siamo una società di consulenza che possa dare consigli su come investire meglio in una classe di strumenti finanziari piuttosto che in un'altra in ogni caso non è che c'è un portafoglio perfetto secondo EMBEST il portafoglio varia con l'assicuratore e i suoi obiettivi comunque vale la pena di sottolineare un paio di punti con riferimento specifico agli investimenti finanziari e appunto all'M&A in termini generali possiamo riferirci alla maggiore incertezza che definisce il contesto sicuramente attuale e probabilmente futuro degli investimenti infatti in tempi recenti a livello globale non solo con riferimento al mercato italiano l'investimento azionario sembrava attrarre molte compagnie a causa dei rendimenti attesi più elevati almeno secondo una serie di survey sponduti l'anno scorso più in dettaglio paragonando le intenzioni di investimento pre-covid e post-covid diciamo fino a prima dell'invasione dell'Ucraina emergeva chiaramente il trend di una maggiore propensione al rischio in genere e ad esposizioni meno liquide però con più alto rendimento insomma ci si poteva attendere una riduzione dell'investimento a rendito fisso e quindi un aumento dell'investimento azionario e in generale anche un maggiore interesse nel debito dei mercati emergenti questo poteva essere un senso in quel momento particolare però l'attuale crisi geopolitica suggerisce evidentemente un approccio più prudente con un ripensamento dell'esposizione in termini di maggiore liquidità o forse no resta infatti il problema della pressione inflattiva con tutte le conseguenze che sta porta mi pare che la questione sia già stata affrontata anche da Osei la questione dei tassi di interesse in crescita e questo cambia certamente il quadro di riferimento rispetto per esempio a due anni fa quindi cambiano i problemi ma si aprono opportunità e su questo tema non c'è una conclusione diretta chiara e univoca la realtà è che il portafoglio degli investimenti delle aziende si evolverà secondo lo sviluppo del contesto economico generale che nell'attuale congiuntura appare particolarmente esposto a shock significativi dall'esterno io posso facilmente immaginare che il tesoriere saggio cercherà di gestire il portafoglio di investimenti in modo da privilegiarne la liquidità e il valore sono obiettivi facili da combinare in un momento di grande incertezza qualche cenno rapido sull'attività di M&A in un periodo di crisi può anche aprire opportunità per mergers ed acquisitions questi forse sono gli investimenti ancora più strategici di tutti anche perché non avvengono sempre per un'impresa assicurativa è difficilissimo fare previsioni nel senso che io potrei anche essere tentato di concludere che il mercato preferirà stare a guardare piuttosto che considerare operazioni di investimento per definizioni più rischiose ad essi però alla fine molto dipende dalla durata della crisi lunga lunghissima la guerra termina domani con un accordo a sorpresa non si sa questo è tutto quindi alla fine il capitale però comunque sia indipendentemente dalla durata delle crisi richiede impiego e richiede rendimento quindi alcuni attuali investitori potrebbero desiderare uscire dal mercato e automaticamente ne attraggono degli altri insomma ho dato un'altra risposta vaga mi scuso di questo senza indicazioni univoche il problema delle previsioni è un po' sempre il solito si finisce col dire in definitiva oggi come ieri domani come oggi e poi però le cose vanno diversamente l'unica soluzione rifacendomi un po' a quello che anche gli altri ospiti stavano menzionando prima ne emerge una situazione di grande flessibilità nelle imprese assicurative quelle che possono contare o hanno l'ambizione di essere a prese di successo e cioè ci vuole in definitiva un capitale in grado di adattarsi rapidamente all'oceano però si mantiene la rotta verso la destinazione finale ma si cambia e ci si adatta però la chiave è flessibilità quindi capacità adattiva e questo devo dire questi sono davvero i tempi in cui ce n'è bisogno lei ha parlato di possibili crisi chiaramente che stanno investendo il settore ma non soltanto perché si tratta di crisi anche internazionali come quelle già citate nel corso della puntata tuttavia ha usato una parola molto positiva che è quella di opportunità quindi come trasformare le sfide che stanno investendo il settore assicurativo e non solo in opportunità giro la domanda a voi innanzitutto partirei lato impresa quindi con Raucci e Tanaglia chi vuole iniziare? partiamo con Raucci? beh sì diciamo anche perché in parte ho già credo di avere già risposto a questa già risposto già dato il mio parere su questo aspetto nella nella risposta precedente nel senso che le opportunità sono tante certo tassi bassi tassi alti ogni ogni fase di mercato per noi è un'opportunità l'importante è avere una gamma di prodotti completa e un approccio al cliente che sia sempre adeguato ai tempi adeguato ai tempi e adeguato al profilo di ogni singolo cliente per cui più un'azienda è abituata ad affrontare a 360 gradi il mercato e più può cogliere opportunità in ogni in ogni contesto positivo o negativo che sia certo troppo negativo non non è mai un'opportunità per nessuno però lo scenario che diceva Cicozzi è corretto cioè tassi bassi se rimangono per tanto tempo andranno bene i mercati finanziari e i clienti si orienteranno più su soluzioni di investimento aperte ai mercati finanziari tassi alti torneranno su strumenti che garantiscono comunque rendimenti costanti cedole e flussi costanti di capitali tali da garantire una rendita o comunque un'integrazione alla rendita l'importante è essere in grado di essere flessibili il termine l'avete l'ha riassunto lei prima la parola flessibilità è da sempre che c'è però in certi momenti assume un significato nettamente diverso in questo momento flessibilità vuol dire essere pronti su tanti settori senza impiegare capitali perché non è che il capitale è infinito per cui non è che uno può essere pronto ad agire a 360 gradi stoccando del capitale degli azionisti in tutti i settori essere flessibili di approccio quindi a parità di investimento di capitale le aziende che vincono sono le aziende flessibili che riescono a interpretare le tendenze e i bisogni dei consumatori e allo stesso tempo essere pronte e reattive nel dare soluzioni quella che ho citato sui prodotti di investimento è una ma analogamente può essere sui prodotti di altro tipo prima non ho citato l'esempio ma per esempio il discorso delle franchigie degli scoperti nelle assicurazioni al di là di essere una terminologia oscura sempre la maggior parte dei clienti è una leva enorme per ridurre il costo e dare tanti benefici noi abbiamo rilevato nelle nostre casistiche che tante famiglie hanno il timore dei rischi gravi per cui coperture sulla vita ne abbiamo fatte molte ma anche coperture sulle gravi invalidità quindi non l'invalidità che ti che in passato veniva gestita per gestire i piccoli incidenti i piccoli infortuni l'invalidità che oltre a certi punti di invalidità che non ti consentono di lavorare serenamente ti paghi quindi a fronte di un costo minore dare garanzie e indennizi nettamente superiori questi sono cambiamenti di approccio che in corso d'opera si fanno appunto analizzando e ascoltando i clienti Tanaglia dal vostro osservatorio invece quali le principali sfide e quali le risposte per trasformare queste sfide in opportunità per il business diciamo che chiaramente il contesto macroeconomico è complesso lato nostro non essendo una compagnia che commercializza prodotti vita in quanto noi ci concentriamo solamente sull'ambito da anni in particolare appunto da anni per la piccola media impresa l'andamento dei tassi ha degli impatti che tutto sommato possono essere gestiti lato strutturazione prodotto e anche gestione poi dei sinistri si tratta per lo più di valutare quelli che possono essere gli impatti in una storia di crescita come la nostra sugli investimenti finanziari della compagnia che tutto sommato potrebbero anche da un certo punto di vista trovare beneficio da situazioni di mercato in cui i tassi di interesse siano più elevati rispetto al passato e certamente migliori chiaramente dal punto di vista della strutturazione dell'asset allocation alla luce di ciò che è stato registrato invece nel corso degli ultimi anni dove i tassi sono stati per molti anni fortemente negativi chiaramente il contesto in cui ci muoviamo presuppone la necessità di andare ad analizzare con attenzione le sfide che ci troviamo davanti sono sfide legate all'approccio al cliente quindi sicuramente il tema della trasparenza e della comunicazione verso il cliente finale devono essere degli elementi gestiti con forti presidi da parte delle compagnie quindi la sfida è quella di cercare di semplificare quanto più possibile i contratti assicurativi c'è certamente una sfida di educazione anche da fare nei confronti dei clienti che tutti noi come industria andiamo a servire sia il cliente retail che la piccola media impresa intermediari ripeto secondo il nostro punto di vista sono dei soggetti estremamente importanti in questo processo di presa di coscienza di quelle che sono le minacce derivanti dal contesto in cui i clienti si vanno a muovere e spaziando anche da un contesto diciamo extra macroeconomico ci stiamo abituando nel corso degli ultimi anni a vedere come la crisi climatica stia impattando su molti settori produttivi in alcuni casi diciamo vi sono degli eventi di coda estremi che portano dei danni ai clienti e alle imprese e di conseguenza un'altra sfida importante sarà far percepire appunto le opportunità che le assicurazioni sono in grado di offrire a maggior ragione se in grado di andare effettivamente a costruire dei prodotti che siano calibrati in funzione delle effettive caratteristiche ecco farei la stessa domanda anche a Berenguer ovviamente da una prospettiva diversa che è quella dell'agenzia di rating quali sfide per le compagnie assicurative ma soprattutto come dal vostro punto di vista potrebbero essere trasformate in opportunità per il business sì io su questa domanda sono molto in linea con i commenti che si facevano prima all'inizio della puntata penso che la principale sfida del settore sia quella di continuare a espandere il suo ruolo nel mercato che è quello di provere sostegno agli individui e alle imprese nella gestione dei rischi come si è detto anche prima il livello di copertura in Italia copertura assicurativa si intende è più basso è molto più basso rispetto agli altri paesi europei occidentali diciamo i principali paesi europei e quindi secondo me aumentare questo livello di copertura è la principale sfida e chiaramente anche la principale opportunità per esempio un esempio molto chiaro è la recente crisi dove le compagnie hanno avuto un ruolo molto importante ma che con un livello più alto di copertura nel mercato sarebbe stato ancora più importante per esempio linee di business che mi vengono in mente per fare questo esempio sono la business interruption o anche la copertura sanitaria per esempio e anche la pandemia direi che è solo un esempio abbiamo altri casi molto chiari come può essere la copertura di rischi catastrofali dove sappiamo che c'è ancora molto bisogno di 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 vedere una evoluzione nel mercato e anche far salire questo questo livello di copertura e per esempio anche altri altri rischi si sono stati citati prima come per esempio il rischio cyber e per alcuni di questi rischi anche penso che sia fondamentale la contribuzione dello Stato per trovare una soluzione anche pubblico privata perché non in tutti i casi le aziende o il settore assicurativo da solo per esempio nel caso di rischi catastrofali potrebbe essere preparato diciamo per potrebbe essere pronto per far fronte a tutti i rischi catastrofali e poi tutto questo tutta questa opportunità chiaramente deve essere presa senza lasciare a un lato l'aspetto tecnico che penso sia fondamentale per la sostenibilità del settore a lungo termine e che è stato anche un punto di forza del mercato italiano per poter navigare situazioni difficili o volatili o di incertezza in passato Berengher vorrei concludere questa puntata proprio con lei aggiungendo l'ultimo tassello al nostro dibattito abbiamo parlato delle sfide del comparto dello stato attuale anche di quello futuro ancora non ci siamo soffermati su quello che poi è il lavoro delle agenzie di rating e di AMBEST in particolare quindi le chiedo dal suo punto di vista come cambieranno i criteri di valutazione delle compagnie assicurative da parte proprio delle agenzie di rating sì per mettere in contesto questa domanda vorrei riferirmi a una cosa che ho detto prima nel mio primo intervento che i nostri outlook per i mercati vita e danni in Italia siano negativi per questo anno ma questo non vuol dire che noi aspettiamo un impatto negativo in tutti i nostri rating in Italia diciamo che i nostri criteri di valutazione creditizia finanziaria come agenzia di rating non cambiano noi facciamo i nostri analisi sempre basati nella nostra metodologia che evolve ma sostanzialmente non cambia quello che cambia chiaramente è il panorama e come questo panorama può impattare in modi diversi alle compagnie dipendendo dalle loro caratteristiche sia nel business mix sia nel portfolio di investimento eccetera adesso come abbiamo detto prima siamo in un panorama di incertezza marcato da diversi rischi emergenti che abbiamo citato prima e questi rischi possono impattare in maniera diversa alle compagnie per fare alcuni esempi ho un esempio molto chiaro una società con un'altra disposizione a Russia sia in termini di business sia in termini di portafogli investimenti sarebbe stata impattata dalla situazione che è accaduto e che continua a accadere recentemente sia magari con una perdita del business o con una perdita finanziaria negli investimenti e quindi per fare un esempio questo caso sarebbe stato riflesso nel nostro rating e quindi questo mi sembra un esempio chiaro di come la situazione può impattare una società ma magari non un'altra e quindi ecco questo outlook che noi abbiamo per l'Italia non vuol dire voglio essere molto chiaro in questo punto che tutti i nostri rating in Italia saranno negativamente impattati nel prossimo anno ritorno alla parola chiave affrontare con elasticità anche i rating dipende da settore e chiaramente dipende dalla congiuntura io ringrazio i nostri ospiti per essere stati con noi e per aver animato questo dibattito sul presente ma soprattutto sul futuro del comparto assicurativo italiano ringrazio in particolar modo Riccardo Ciccozzi Director Market Development per Europe di Imbest grazie dottor Ciccozzi grazie a voi grazie a José Antonio Berengher Financial Analyst di Imbest grazie Berengher grazie grazie a voi grazie a Riccardo Raucci Vice Direttore Generale Vita e Direttore Commerciale Territorio Business di Nobis Assicurazioni grazie Raucci grazie grazie dell'invito e arrivederci a tutti e grazie Jacopo Tanaglia CFO di Revo grazie grazie è stato un piacere grazie l'invito naturalmente è quello di continuare a riflettere con noi e di ritrovarci in un nuovo dibattito per affrontare nuovi temi e nuove sfide del comparto assicurativo grazie a tutti i telespettatori di Le Fonti TV e la settimana dedicata al comparto assicurativo non finisce qui continuate a seguirci grazie a tutti